Mirko Vucinic Mirko Vucinic è un bomber di razza, classe 83. Capitano della nazionale montenegrina, si è distinto in Italia per il suo grande feeling con il gol. Prima Lecce, poi Roma e quindi Juve. Ovunque è andato, Mirko ha sempre gonfiato la rete. Nel 2014 è stato acquisito a suon di milioni dall'Al Jazeera di Abu Dhabi, dove già nel primo anno vince campionato e titolo di capocannoniere. Mamma, quanto sei bello! Bello, bello! Mirko si consegna a mani basse e porta i due parassiti in casa, dove già ospite suo fratello. Cazzo è uguale! Tuo fratello è un buon cazzo come tutti i fratelli di quelli che avevano. Lui non fa niente! La piscina! Però qua non ci vado mai. Qua c'è la spiaggia sotto. Ah, tu ti dici la spiaggia sotto qua. Ma perché devono ispezionare tutto? Ma chi cazzo ti frega a te? Dovevi stare in Italia, magari a 33 anni, a rompere il cazzo in una squadra di Bilsassuolo, magari a la Juventus facevi la panchina. Poi ci danno 6 milioni al mese. 6 milioni? Ma stu cazzo! Ecco qua! Vedi un po', vedi un po'. E poi dici che non sono tutti i cd masterizzati, mica originale. E come sono felici! Basta qualche dv di pirata e si sentono a casa. E poi ci vado un po', vedi un po' che si sentono a casa. Grazie a tutti.